Ciao bimbi, sto per leggervi una filastrocca sul vostro corpo. Infatti, come vedete, sullo schermo del mio computer ci sono proprio alcune parti del nostro corpo. Mentre io leggo la filastrocca e ogni volta che ne sentite nominare una, dovete toccarla sul vostro corpo. Mi raccomando, fate attenzione e toccate la parte del corpo giusta. Filastrocca, tocca, tocca. Filastrocca, tocca, tocca. Tocca la testa, tocca la bocca. Tocca il naso, tocca l'occhio. Tocca la gamba, tocca il ginocchio. Filastrocca, vecchia, vecchia. Tocca la spalla, tocca l'orecchia. Tocca pollice e mignolino. Tocca le spalle, tocca il piedino. Filastrocca sul panchetto. Tocca la pancia, tocca il petto. Tocca la coscia, tocca il culetto. Per guadagnare un altro dolcetto. Avete toccato tutte le parti del corpo correttamente? Spero di sì. Ciao bimbi! Sì. Bimbi! Lämä.